Ogni martedì e giovedì fino all'8 agosto, vieni in Fondazione Oasi San Bartolo Pesaro a condividere momenti esperienziali unici con un panorama mozzafiato sulla riviera. La tua presenza ci aiuterà a raccogliere fondi a sostegno del progetto Pianta una pianta per salvare il pianeta. Il pianeta ha bisogno anche del tuo aiuto. Vieni a vivere tutta la magia e l'emozione di un tramonto dai colori indimenticabili. Ti aspettiamo dalle 19.30 per trascorrere insieme serate magiche con yoga, pilates, meditazione, picnica al tramonto. A seguire Cultura nella natura con racconti condotti da Paolo Pagnini con intervalli musicali. Prenota la tua partecipazione sul sito.